Mi dà fastidio come diceva la dirigente che purtroppo sabato abbiamo giocato così pensavamo già di aver vinto perché dopo 10-12 minuti abbiamo creato non so quante occasioni ma sabato abbiamo giocato meglio di oggi dal punto di vista del gioco dal punto di vista del gioco abbiamo giocato meglio oggi abbiamo più cattivi, quello che ci è mancato sabato sabato abbiamo mancato la cattiveria purtroppo giochi in un campo come Castellamonte che vi credo credetemi che è un campo dove lottano fino alla morte entrano in scivolata, poi l'arbitro ha lasciato un po' perdere all'inizio hanno fatto sto gol così e noi siamo andati un po' in angola e non si agisce più a recuperare invece oggi la squadra ha reagito proprio bene tutti quanti contando che sabato ci mancavano comunque Savarola e Salzotto che non è che sono bravi ma danno un po' più di esperienza alla squadra detto ognuno la squadra sarà un po' già più vicente purtroppo quando ci sono i suoi campi lì l'esperienza è passata poi loro ci hanno aspetta tutta la partita come ha dichiarato il loro allenatore perché dovevano fare, potevano farlo così tattica giusta non mi non è esattamente oggi non penso che oggi ne abbiamo detto no, questo era per giustificare Savarola perché qualcuno doveva dire non è che non mi volevo giustificare, non volevo dire era inutile, abbiamo fatto proprio una partita molli senza dire questo con parte dell'allenatore e dei giocatori non si perde tutti perde l'allenatore, perde i giocatori, perdono tutti punto, come oggi hai vinto l'allenatore, vinto il giocatore, vinto tu avete ogni tanto hai un quintetto da gestire poco esperto sì, però comunque oggi ho potuto far svuotare tranquillamente quasi tutti gli elementi e penso che abbiano risposto tutti quanti quasi nella stessa maniera errori ne ho visti pochi da parte dei miei giocatori cosa che di solito facciamo tanti ne ho spiegato oggi eravamo molto concentrati abbiamo partito un po' l'inizio al secondo tempo che ci sono venuti a prestare, hanno tenuto un ritmo molto molto alto e abbiamo cercato in qualche modo però anche lì siamo usciti bene ci sta la squadra così c'è Prudente, Morello, Morelli, Cirillo Morelli, 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 Dr. Jesus